Ida Platano, l'attronista che ha stregato il pubblico di uomini e donne con la sua ricerca dell'amore vero, sembra attraversare un periodo di forte turbamento Ida, puoi lasciare il programma, queste le parole inaspettate di Maria De Filippi che hanno raffreddato gli animi in studio Maria senza peli sulla lingua uomini e donne. Nella corsa all'amore, Ida si è ritrovata più volte a dover gestire delusioni e incertezze Il suo ingresso negli studi a Elios aveva suscitato un'ondata di entusiasmo tra i fan Tutti credevano potesse finalmente trovare quell'uomo che le garantisse stabilità e sicurezza emotiva Soprattutto dopo un passato così difficile Invece, il suo percorso si è rivelato un vero e proprio rollercoaster sentimentale I corteggiatori, Pierpaolo e Mario, non hanno colmato il vuoto di Ida, lasciandola in balia di ansie e timori Si aspettava ardore e vicinanza, ma ha ricevuto solo freddezza e distacco, tanto da essere etichettata da Tina Cipollari, l'opinionista senza peli sulla lingua dello show, come vittima di un comportamento, teatrale, da parte dei suoi pretendenti Il culmine di queste tensioni si è avuto quando Maria De Filippi, visibilmente preoccupata per Ida, ha preso le redini della situazione In un clima carico di attesa, Maria ha aperto un varco di possibilità per Ida, quella di poter abbandonare il percorso senza scegliere nessuno, qualora sentisse di essere presa in giro La risposta di Ida, un semplice ma eloquente cenno di assenso Tra i dubbi e le paure, Ida si trova ora ad un bivio Continuare nella speranza o lasciare il programma Le sue emozioni sono un libro aperto e Maria, con il suo intervento, ha solo amplificato il sentimento di incertezza che pervade la tronista